5 stelle dell'Emilia Romagna al fianco di chi si batte contro la vaccinazione obbligatoria introdotta con la legge della regione per l'iscrizione dei bambini all'asilo nido. Presto arriveranno in Consiglio Comunale a Bologna le istanze del Comitato Vacci Piano costituito da genitori contrari alle vaccinazioni. Noi chiediamo maggiore informazione da parte delle istituzioni, verso i cittadini e verso coloro che hanno dei dubbi nei confronti delle vaccinazioni. Più informazione, più libertà di scelta, ma che sia una scelta consapevole. Sono stati pubblicati proprio recentemente dei report nel Veneto che ha sospeso l'obbligatorietà vaccinale che indicano che quella è la strada giusta. Noi riteniamo che anche l'Emilia Romagna debba percorrere quella strada. Tra PD e 5 stelle si gioca una partita vera sul tema dei vaccini, risponde Paolo Calvano, segretario del Partito Democratico dell'Emilia Romagna. Senza se e senza ma abbiamo scelto di stare dalla parte della scienza, dalla parte della tutela della salute pubblica, da quella di una comunità sicura, conclude Calvano.